Firefox nasce nel 2002 dalle ceneri di Netscape Navigator, il primo browser web grafico di successo nella storia dell'informatica. Da subito in competizione con il famigerato Internet Explorer, che a ridosso del 2000 occupava una posizione di monopolio assoluto, essendo il browser preinstallato su Windows, Firefox inizia la sua ascesa guadagnando market share a colpi di innovazione e miglioramenti continui, fino a raggiungere il picco di popolarità intorno al 2009 con quasi il 32% di market share. Ma di lì a breve le cose avrebbero iniziato a prendere una brutta piega per il browser di Mozilla, che anno dopo anno ha visto sfumare il proprio market share ad un ritmo costante quanto inesorabile, fino a perdere la bellezza di 50 milioni di utenti in poco più di un paio d'anni. Ad oggi Firefox detiene appena il 3% del market share, superato da Safari con il 18%, un bello stacco, e tutti i browser basati su Chromium che coprono il resto del mercato, con Google Chrome, il più popolare, al 66% di market share da solo. A peggiorare le cose c'è che Safari, l'unico vero concorrente di Chrome in termini numerici, sta diventando il nuovo Internet Explorer, con Apple che si rifiuta di implementare funzionalità di base ormai presenti in qualunque browser moderno. Il market share di Safari è praticamente garantito soltanto dal fatto di essere il browser predefinito su macOS, un po' come Internet Explorer, lo era su Windows, ma soprattutto l'unico browser che potete usare su iPhone e iPad. Su iOS è possibile installare Firefox, Chrome o qualunque browser si voglia, ma a causa di un'imposizione di Apple, questi devono usare il motore di Safari sotto la scocca. Quanta scelta, eh? Per capire il declino di Firefox penso sia necessario analizzare un paio di punti chiave, perché qui Mozilla è un po' vittima e un po' carnefice di se stessa. Prima di tutto, quando gli smartphone hanno iniziato a diventare popolari tra 2009 e 2010, Firefox Mobile non esisteva affatto. Gli utenti Android avevano Chrome, su iOS c'era, beh, indovinate un po', sempre Safari, e basta così. Firefox per Android è arrivato nel 2011 e su iOS nel 2015. Vabbè, non che faccia una gran differenza. Nel frattempo è chiaro che gli utenti hanno usato quello che c'era. Quando poi Google ha introdotto la sincronizzazione tra dispositivi, non poteva esserci incentivo migliore per installarlo anche su PC e avere la vita più facile. Oh, giusto, e poi la home page di Google che, visitata con un browser diverso da Chrome, invita l'utente a scaricare Chrome per una migliore esperienza di navigazione. Oppure il fatto che la suite di Google funzioni volutamente peggio sui browser non basati su Chromium. In tutto questo, però, Mozilla ci ha anche messo del proprio, per far schifo. Diciamo che si sono un po' adagiati sugli allori, arrivando tardi sul lato performance, arrivando lunghi sull'implementazione di nuovi standard del web. Intanto Chrome continuava in perterrito la sua avanzata, rimboccandosi le maniche, riscrivendo rendering engine e implementando nuove funzionalità, prima di tutti gli altri. Ma dopo aver perso oltre il 50% del market share, il management di Mozilla si è rimboccato le maniche per trovare una soluzione. No, scherzo. Hanno alzato la propria paga del 400%. Non credo ci sia bisogno che dica altro. Ma tenetevi forte perché il prossimo punto ha dei risvolti veramente inquietanti e la dice lunga su quanto potere abbia Google su Mozilla. Sapevate che Google paga fior di quattrini per essere il motore di ricerca predefinito su Firefox? Ad oggi parliamo di oltre 400 milioni di dollari l'anno, che, opinione mia, per un browser con appena il 3% di market share, potrebbe essere leggermente sproporzionato. Ma in realtà, per come la vedo io, ci sono almeno un paio di chiavi di lettura per questa cosa. Può darsi che Google stia pagando Mozilla per estinguersi lentamente, continuando a spingere gli utenti sul proprio motore di ricerca e servizi, che a loro volta spingono a usare Chrome. Ma la seconda spiegazione è anche più spaventosa. Google è visibilmente in una posizione di monopolio con il suo browser e i suoi servizi. Perciò è possibile che stia tenendo in vita Firefox solo per farla franca con l'antitrust. Solo per poter dire che c'è ancora concorrenza, anche se si tratta di fumo negli occhi, perché Firefox è ormai irrilevante a livelli di mercato e Mozilla è finanziata principalmente da Google. Ok, ma se Chromium è un ottimo browser ed è il più popolare, che problema c'è? Verrebbe da chiedersi. Funziona meglio? È più popolare? C'è una sola cosa da cui testare? Meno frammentazione positiva, no? Vedete, Chrome, Edge, Brave Browser e tutti i browser basati su Chromium coprono oltre il 77% del market share. E gli sviluppatori web ormai non testano neanche più su Firefox perché è diventato irrilevante. Quando le cose si rompono, i pochi utenti rimasti assumono sia un problema di Firefox e sono spinti a usare Chrome, ancora una volta contribuendo a questa spirale discendente. Questo è un problema per almeno tre motivi. Uno, in assenza di concorrenza, prima o poi viene a mancare la spinta per l'innovazione. Tipo come quando Internet Explorer era l'unico browser per navigare il web, è stata un'esperienza degradante per anni, fino all'arrivo di Firefox e poi Chrome. Secondo, ma non meno importante, se usiamo tutti lo stesso browser, si crea l'equivalente di una monocultura, dove la vulnerabilità di uno diventa la vulnerabilità di tutti. Ad esempio, vi siete chiesti come mai molte console sono hackerate tramite il browser web integrato, che sia PS3, PS4, addirittura Nintendo Switch, perché usano tutte WebKit come base. Quindi scoperta una vulnerabilità in WebKit può essere generalmente utilizzata su tutte le piattaforme che ne fanno uso con minimo sforzo. Anche Chromium non è esente da Bucky. Il 27 marzo di quest'anno è stata scoperta un'importante vulnerabilità attivamente exploitata su tutti i browser basati su Chromium. Un solo baco per coprire quasi l'80% dell'intero web. Nice! Terzo, ma forse più importante di tutti, la mancanza di Open Standard. Vedete, Google controlla già moltissimo traffico web tramite i propri servizi come Gmail, Drive, eccetera. Google offre anche delle API a cui altri servizi web si affidano per cose come circuiti pubblicitari, font, maps, eccetera, eccetera. E in ultimo, Google governa le sorti del browser web di gran lunga più usato al mondo. Questo conferisce a Google un potere smisurato per dettare il futuro degli standard del web. Se Google decide di non implementare una certa funzionalità all'interno di Chromium o di definire un proprio standard a porte chiuse saranno i siti web a doversi adeguare al browser invece che il browser a doversi adeguare a degli standard comuni. Ed è al contrario che dovrebbe funzionare. Inoltre, le redini del progresso sono in mano a un solo player in questo gioco e questo non è mai un bene. Morro, ma hai detto che Chromium è open source, quindi dov'è il problema? Solo nel 2019, il 92% dei contributi entrati a far parte di Chromium sono di Google che di fatto decide cosa entra e cosa no nel proprio browser open source. Prende tutte le decisioni riguardo la direzione di sviluppo del proprio browser quindi conta fino a metà. Certo, nulla mi vieta di forcare Chromium per fare concorrenza a Google ma un browser web è una cosa estremamente complicata da mantenere e far concorrenza a una corporate multimiliardaria non è esattamente alla portata di tutti. Poi non risolverebbe comunque il problema della monocoltura dovuta al fatto di usare tutti quanti la stessa base. Ma quindi cosa possiamo fare per evitare una sorta di medioevo del web? E la risposta è abbastanza semplice usare Firefox e riportare eventuali problemi di compatibilità ai gestori del sito perché continuino a testare anche su Firefox che ormai è un ottimo browser ha superato numerose criticità del passato e ha ben poco da invidiare a Chrome. Io lo uso sia su PC che su mobile e mi trovo benissimo. E naturalmente diffondere il verbo. Se non siamo noi la fetta più consapevole e informata a muovere e influenzare il mercato verso una visione che sia un po' meno distopica non so chi può farlo. Quindi è davvero importante che convinciamo amici, parenti, chiunque ci sta accanto a provare Firefox perché c'è da capire che sarà anche grazie a Firefox e alla sua rilevanza sul mercato se Chrome continuerà a innovare e a migliorare. E senza un minimo di concorrenza non può esserci innovazione. Dal canto suo però Mozilla potrebbe fare di meglio nel trovare finanziamenti per lo sviluppo del browser incluso offrire servizi a pagamento su commissione o programmi di affilazione, referral e via dicendo. Sono tutte idee buttate lì ma alla fine Brave ha fatto una cosa simile in ambito criptovalute ottenendo un discreto successo quindi perché no? Qualunque sia la soluzione comunque se Mozilla vuole che Firefox torni a essere un browser rilevante deve tornare a innovare come stava facendo nel 2009 prima di adagiarsi sugli allori. E voi che ne pensate? Cosa potrebbe fare Mozilla per recuperare questa enorme fetta di market share che ha perso inesorabilmente durante gli anni e arrivare a fare un po' di sana concorrenza a Google? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!